Signore Gesù, tu conosci il luogo dove sono nati i germi dell'influenza, tu conosci i venti che li hanno portato qui fino a noi e hanno infestato come tarme, come cavallette, le nostre terre e i suoi abitanti. Signore, da dove vengono questi spiriti di influenza? Come sono nati, come infestano, tu solo lo conosci, gli uomini cercano di conoscere, ma non conoscono che è ben poco di quello che succede, tu conosci tutto. Tu sai dove nasce, tu sai come viaggia, tu sai quanto tempo dura e tu permetti che questo male infesti le nostre case. Signore ti chiediamo, comanda questo male di uscire dalle nostre case, dalla nostra città, comanda i germi dell'influenza di dormire in pace. E dai ai tuoi figli che soffrono di aver pace, serenità e di vincere questo male. E benedici questa città, infestata da tanto male, e comanda tu a questi spiriti di influenza di lasciare definitivamente la nostra terra e di non festare più le case degli uomini e mettere in pericolo le vite degli abitanti. Comanda il tuo Signore, comanda il tuo Signore, comanda il tuo Signore e le cavallette usciranno fuori. Comanda il tuo Signore e queste tarno moriranno. Lode e gloria a te, Signore!